No, vela ride. No, vela ride. Allora vi faccio un esempio di mossa fondamentale. Una mossa che lui fa sempre nel concerto di... Valenti sei troppo alto. No, vela ride il ballo. No, no, quello è il bieliggio, ma mi sapeva il cappello. no eddie no questa è la parte principale ma poi c'è un altro tipo che no dai fai musica dai questo è un po' criminale che però ci fa un cappello che mette vieni vieni porresi ma terape ci vogliono dei mocassini purtroppo è Grazie a tutti